Filippo Curreri torna a Creazioni sotto le stelle, quest'anno giocate d'anticipo e sarà una manifestazione che si svolgerà il 6 agosto, quindicesima edizione, cosa state preparando? Allora è da molto che ci lavoriamo, già quasi un anno perché abbiamo finito quella edizione e subito dopo abbiamo stipulato, organizzato e parlato dell'edizione adesso e diciamo che sta arrivando il momento. Quest'anno parleremo di circo, è un tema che avevamo da molto tempo in mente tutti ma non eravamo ancora pronti, ora siamo arrivati al momento di essere pronti per affrontare questo argomento del circo, non pensate che ci siano animali, non ci sono animali ma lo spettacolo, l'anima, l'anima è quella del circo. Allora Creazioni sotto le stelle è un connubio di parrucchieri che si mettono insieme, l'idea è quella di occuparsi ovviamente di hairstylist però poi diventa molto altro, è uno spettacolo articolato, cosa ci sarà? Allora ormai noi siamo collaudati in questo spettacolo perché ci sarà oltre a fare i tagli in live, acconciature in live, ci saranno sconciature spose, acconciature cerimonie, ci saranno i cantanti, ci sarà il balletto, abbiamo una scuola di danza di fuori che farà il suo spettacolo. Poi ci sono altre sorprese da vedere, non dire perché è giusto che uno viene a vedere lo spettacolo e deve immaginare che entra in un circo, quindi è qualcosa da vedere, non ci sono leoni da domare, è manco che rugiscono tranquilli, ma se è uno spettacolo ci sarà sempre Carlotta Gianniberti che canta, ci sarà sempre Maurizio il tenore che è bravissimo, che ha fatto una grande tournée un po' in Germania, un po' in tutta l'Italia e l'Europa ha girato. E poi ci saremo sempre io, Luigi e Enzo che siamo i tre dell'Apocalisse che lavoreremo, non ammazziamo, ci tiriamo capelli ma siamo sempre assieme. Luigi Colletti, spettacolo ormai al Via, organizzazione messa ormai a punto, c'è anche la pre-vendita dei biglietti. Sì, quest'anno c'è per garantire 600 posti a sedere, abbiamo pensato a fare la pre-vendita dei biglietti, però oltre a fare pagare un contributo, un piccolo contributo, sorteggeremo un pernottamento presso Villa Zin Park Hotel, compreso di un percorso di benessere, perciò oltre a venire a divertirvi potete anche godervi una sorpresa. Ecco, la pre-vendita è partita, dove è possibile acquistare i biglietti? Potete acquistarli presso il mio salone, che abbiamo deciso di farlo in un unico punto per non fare confusione, ovviamente in corso Vittorio e Emanuele, potete venire sia mattina che pomeriggio, i biglietti già sono tutti pronti, aspettiamo solo voi. Grazie.